Dalla carta al digitale Videocatechismo della Chiesa Cattolica Un'opera multimediale e multilingue per tutti gli uomini e le donne del nostro tempo Le risposte della Chiesa sulle eterne domande di ognuno di noi Chi siamo? Dove andiamo? Chi ha creato la vita e l'universo? Perché la sofferenza e la morte? Perché il bene e il male? I testi originali del Catechismo sono letti fedalmente dal popolo di Dio nelle sue diverse espressioni e nella ricchezza di volti, voci, colori e professioni che lo compongono. Un inno alla fede e alla sapienza della nostra storia per capire in modo semplice il senso della Chiesa in cammino. Un'opera artistica che si avvale di ricostruzioni in fiction e riprese effettuate in luoghi di particolare fascino ed emozione. Video Catechismo della Chiesa Cattolica